100 nuovi casi di età compresa tra 1 e 98 anni su quasi 2000 tamponi analizzati che restituiscono la percentuale di positivi su test analizzati più basso. Da qualche settimana a questa parte il 5,2%. Numeri in deciso miglioramento in Abruzzo nell'emergenza Covid-19. Con questo aumento, seppur contenuto rispetto ai giorni scorsi, il numero complessivo di coloro che nella nostra regione hanno contratto il virus sale a 32.375. Calano anche i posti letto in terapia intensiva, mentre purtroppo si registrano altri 15 decessi nelle ultime 24 ore. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 8, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra, come detto, 15 nuovi casi e sale a 1.072, di età compresa tra 54 e 89 anni. Del totale odierno un caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 16.836 tra dimessi e guariti, più 500 rispetto a ieri. E attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei pazienti dimessi, guariti e dei deceduti, sono 14.467, meno 415 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 467.336 test. 601 pazienti, meno 29 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 59, meno 5 rispetto a ieri, con tre nuovi ricoveri in terapia intensiva. Mentre gli altri, 13.807, meno 381, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel totale dei casi positivi 10.380 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 13, 6.275 in provincia di Chieti, più 28, 6.557 in provincia di Pescara, più 33, 8.736 in provincia di Teramo, più 26, 267 fuori regione, più 1 e 160, meno 1, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.